E sempre in tema di giustizia, torniamo in Lombardia, sentiamo questa intervista al Presidente della Commissione Speciale Giustizia, Fabio Fanetti. Fabio Fanetti che è il Presidente della Commissione Carceri in Consiglio della Regione Lombardia, lei circa un mese fa ha avuto un incontro con il provveditore delle carceri lombarde, Fabio Ozzi, con il quale si è parlato di uno dei problemi principali che riguarda le carceri, ovvero il sovraffollamento. È stato annunciato che da settembre ci saranno 500 posti in più a San Vittore? Sì, il Dottor Aldo Fabio Fanetti ci ha dato informazioni positive per quanto riguarda il sistema carcerario e effettivamente ha confermato le cifre che lei diceva. Complessivamente in Lombardia ci saranno, penso, mille posti in più. È chiaro che Regione Lombardia con questa Commissione per quanto di sue competenze si sta interessando, sentendo tutti gli attori in modo tale da poter attuare un piano d'azione, tanto che il 24 saremo in visita al carcere di Varese appunto con la Commissione per rendersi effettivamente conto e toccare con mano le varie situazioni, anche se all'interno della Commissione ci sono dei componenti che hanno già ben evidente quello che è la situazione carceraria a Lombarda. Oltre i 9.000 detenuti presenti, di cui il 40% e più è una popolazione straniera e il 25% toccicodipendenti.